Il bambino è guarito veramente. Alla faccia del vado. Gesù, dove il miracolo della montagna aveva cinque pani e due pesci. Ma Giovanni, i ragazzi che sono arrivati... ...e perché una magica attesa da sfida... ...una sempre che in te sei... ...vieni da... ...peri il sacrificio. Pensa, Gesù si è sacrificato per noi su questa croce. Umili besterline di Dio, no? Proprio come dovremmo fare noi per quegli schericcioli di là... ...che chiedono dei vestitini nuovi. Cos'altro? Non tenerebbe la sufficienza che avrei... ...incedere... ...un'aria grave... ...incedere... ...e le direi... ...fai nella curva... ...la massima curva... ...ce la vediamo... ...proprio tutta... ...e che mi... ...riciocchierà... ...la mia... ...sala... ...e che mi... ...so scenderà... ...sempa di te... ...capposto... ...sa di tuerire il tuo calmetto e di curarla a cercare... ...se mi vuoi per ascoltarti la mia chiesa devi fare... ...in figlietto è da comprare, da comprare, da comprare... Capotti su tappotti e poi magliette decotei Camice e messaglie a me Grazie a te Grazie a te